Ecco il momento della merenda Vedete che Giulia si sta gustando uno yogurt Da sola E' uno yogurt che non piace a nessuno come vedete Solo ci sta pigmi che ci impedisce di vedere tutto dietro perchè è gigantesco Ora prendiamo un attimo piperetta Eccola qui Vedete che è incinta Sono otto mesi Ovviamente questo video non andrà divulgato sul web Altrimenti ci arriva il servizio sociale a casa Aiuto Attenzione a Betty Andiamo a cercare la Puppi Vediamo dov'è la Puppi Eccola Cosa qui come te gli ho L'alfitta In verità te prego Ma io lo volevo che mangi Nel picco mi è sempre interessato a vedere le camere Ma io guardo il mio occhiaino Guarda l'alto Qui ce n'è uno eh Ma me la c'è che abbiamo chiesto Perchè? L'hanno sbavato? Ma lì dietro c'è un altro pezzo eh Vedi gira un po' E' molto Se non aiuti Possiamo chiudere il video Possiamo chiudere il video